Ciao, in questo video andremo a vedere insieme Garen con i suoi oggetti e i suoi incantesimi. Questa è la build che ho utilizzato, copiandola da uno dei primi tre in classifica, quando ho dovuto giocare Garen Mid. Perché ho giocato Garen Mid? Perché c'era Soraka nella mia squadra e ho detto, bene, titanco l'infinito, gioco Garen Mid e divento una dive machine. E così è stato. Come primo oggetto vado a fare la mannaia oscura, poi ci butto un annientatore di vino per potermi curare e fare altro danno, una bella corazza del uomo morto per continuare a tancare e a correre, e come ultimi due oggetti abbiamo Pegna di Sterak, che mi piace molto in generale da fare, insomma, su Garen, e la Guardian Angel per essere ancora più tossico nell'immortalità, anche se effettivamente alla Guardian non ci sono arrivato. Scarpe sono andato con le piastre d'acciaio difensive, che successivamente ho appato in una lastra pietra per avere quello scudo gigantesco. E quel rumore era qualcuno che aveva appena fatto una formica nella sponsorship che è attiva in questo momento, che vi lascio giù nel canale per chi mi vuole supportare gratuitamente giocando al gioco in sponsor. Continuando sulle rune abbiamo Presa dell'Immortale, che mi dava la possibilità di aumentare i miei HP, e comunque di continuare a dare fastidio al buon Galio in mid, Sfera dell'Annullamento per avere lo scudo quando scendevo di vita, e con Soraka e tutta quell'altra roba una bomba, Secondo Fiato per curarmi ancora di più, Crescita eccessiva per aumentare continuamente i miei HP, e qui avevo Uccisore dei Giganti per dare fastidio ai tank, insomma, alla gente, ai fighter della squadra avversaria, perché tanto ero sempre a fightare loro e tutti quanti in generale. Per gli incantesi mi sono andato con l'ustione e il flash per cercare le prime uccisioni in mid, come poi andrete a vedere. Ha detto questo, io vi lascio al gameplay. UGUR GRASP! E... Perfetto. Un po' il graspino qui. Una formichina! Let's go! The toxicest jumpy is the deadliest. Ti prego, vattene da qui! Capisco, Kun. Ma comunque dicevo per la diagnosticata, perché poi magari uno sta seguendo un iter di qualche tipo. Dennis! Che cazzo farmi i miei minion? Era meglio... Era meglio riusciarli. Ma stavo lì. No, dico nico. Sarà meglio riusciare ad andare. Bene. Gare il mid. Oddio! Oddio! Guarda che culo! Mi sembra ingiusta comunque questa situazione. Cioè io mi sono trovato... Vado a mettere una ward un po' più deep del solito, invece di metterla... Di solito la metto qui, perché vabbè. Se tu sono tank... Non ho niente. Giustamente. Mi trovo l'insetto lì. E con il granite lo uccidevo, eh? Ah, capisco, Kun. Mi sento la schiena come Yumi? Cioè è un gatto? È positivo, i gatti sono belli strecciati. Ciao, simone. C'è un ward bot? Uriva. 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 E no! Brodo, me l'hai spinta via! Possiamo dai vare, in teoria. No? Arriva Galia, no? Fermo. C'era la mia di ulti che volevo... Ok. Oddio, quanto mi curi! Dio! Sono vivo! Sì, io mi... Cioè, me la prenderei la win. E via. Tra Star Guardianari e Twist Effect Astronomo, cosa preferite? Devo scegliere. Star Guardianari. Anche perché poi le Star Guardian fanno il recollo. Che è già un ward solo per quello. Placchetta. 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 Te ne vuoi andare, grazie. Placchetta. Ho usato la W nel momento giusto, così non si è accorto che l'ho usata. E così pensa di non farmi danno. K'ZX è lì. Perfetto. Placchetta. 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 Ti ho trainato io Tu pensi che io sia Che sia aggressivo Poi giochi con Nick Ma se ci facessimo il drake Non mi sembra il caso Arrivo Ti facevo credere che non lo volevamo fare Genio E' da cagare ne è bello mid Contro la gente che smarmella Arrivo Oddio Trindameru E' morto Doe pensi di andare Nooo Yes baby Oh baby Ah si E' il maggiore C'è il maggiore Erald Prendiamo la torretta noi ora Sono fuori vita Placchette Succose placchette dorate Nick ti prego Vieni qui Eccoci Eh T'ho cercando di salvare il pedale qui KazX Oh no forse l'altro Mamma mia Arriva Gallio da sotto No io lo baito a quello Perché lo curo Esatto Gallio qua Adesso Mi torna la ultima mia adesso Aspetta Eh niente L'ultimo attacco base Su quello non è arrivato Finalmente avevo 3000 gold Avevo Buono Lo volevo demaciare Ma non bastava Mi serviva quel tantino Ho fatto il livello 5 E te lo conta Allora se l'hai appena fatto Aspettiamo un attimo E vediamo se lo conta Siamo a 35 Non ho sentito Da quanto l'hai fatto L'hai fatto adesso Shining Quando usa la seconda abilità Cioè Sta dentro qualcuno Non capisco Te giuro Non ti sto memando Adesso Allora vediamo se a breve Si sente il rumore tipo Cri 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 Vuol dire che qualcuno Ha fatto qualcosa Sulle formiche Shining Lo sai che Che mi hanno regalato Per il compleanno Ah Fine E deve essere sicuro Insomma Che non scappasse Chiaramente E L'Oculus Quest 3 Quando esce Finalmente potrò giocare A Moss 2 E altre cose Chiaro Puoi continuare Puoi continuare Faccio io da No no Ha un po' tomancio Basta che proteggiamo Soraga Che cos'è Povero Galio Da solo Pento Non posso più Continuare C'ho la passiva Ovviamente C'è torno Ok Vai che questo Mi viene qua A me Ma va bello Silenzio La comenta La penta No Non mi dire che è morto Perché ha fatto la cosa Sulla mia No Un po' tomancio Per la vita Un po' tomancio Servono le scarpette Sì Sì Praticamente Il 27 settembre Fanno la metaconnect E annunciano la data E si pensa sia il 10 ottobre Unitevi al raduno Sì regà Vi prego Fate i raduni Fate i raduni Se siete in gilda Con noi Sì Ma il problema Rally Che mi sa che tutte le persone nuove Che stanno facendo le formiche Oggi Stanno in un altro server Ho fatto il livello 7 Che rally devo fare Ah ok Allora Il rally Devi praticamente Entrare O Crea in una gilda Ma è un casino Sei in un'alleanza Sei riuscito ad entrare in un'alleanza Gilda Alleanza Insomma Chiamala come ti pare Stiamo a regare La macchia La macchia Cosa C'è la blatta dietro Non ci frega niente Abbiamo lasciato Letta La mentira Andiamo verso il trick Ecco Oh Vado vado Rega niente No Oddio 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 Che cosa vuol dire Suraka Suraka C'ho ancora la ultima Io posso Andare Stando al bordo Tu mi curi da dietro Intanto Nick fa danno Ultima Sono bloccato Dalle trappole Per la vita No Oddio Oddio E' qui E' qui E' qui Mi ha exhaustato Diventa un po' tovagio Credo No Sto tankando io Sto tankando io Perfetto Dennis no Ce la fai Mi torna la W Mi torna la W Ok Ok Beh direi anche Nel momento Esco Devi ricollare Tutti No basta Nick Nick Devi ricolla Pure tu L'hai finito Il mana Vado Dimaciato Sono un'alleanza a caso Perfetto Il problema di essere In un'alleanza a caso E che non è la nostra Shining Che praticamente Devi aspettare Che qualcuno In quella gilda Mandi un rally Una dunata Puoi provare a scriverlo Nella chat di gilda Se qualcuno Può fare il rally Dive machine Dive machine Dive machine Garen Facciamo così Il video Dive machine Garen Ancora che mi volete Fai dare L'avete ancora imparato Vai vai Non ti preoccupare Sono dietro di te Ero meno dietro Che sono stato bloccato Dalle trappoline E la domanda è Posso Divare il nexus Lo scopriremo Adesso No perché L'ha derivato Il kitten Per prima Esci dal kitten Niente Comunque ho quasi ucciso L'ho quasi ucciso Quello Ecco Ti dai voi Io Non c'ho bisogno Che torni dietro Madonna mia Guardo vedo magic Là dietro Che 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 Il problema È col cazzo Di stealth Questo è un problema E voltare A me Dive machine Jump E alleno Tutti i giorni 16 20 Con sto raga Dietro Le Le c***o E vene Che sicura Mi ha Io incado L'nvp Anche se Questa morte Potrebbe aver Sancito Qualcosa 98% Dei gare Nello stesso Livello S S Guardate